Debole creature incatenate, destinate al nostro piacere, spero non vi siate illusi di trovare qui la ridicola libertà concessa dal mondo esterno. Siete fuori dai confini di ogni legalità. Nessuno sulla terra sa che voi siete qui. Per tutto quanto riguarda il mondo, voi siete già morti. Ed ecco le leggi che regoleranno qui dentro la vostra vita. Puntualmente alle sei tutta la compagnia dovrà riunirsi nella sala detta delle orge, dove le narratrici a turno si siederanno a raccontare ognuna una serie di racconti su un tema particolare. Gli amici possono interrompere in qualunque punto e tutte le volte che lo vorranno. Questa narrazione ha l'obiettivo di infiammare l'immaginazione e ogni lascivia sarà permessa. Dopo cena i signori passeranno alla celebrazione di quelle che vengono designate come orge. Il salone e le altre stanze saranno adeguatamente riscaldate. Tutti presenti, vestiti secondo le circostanze, adagiati sul pavimento e seguendo l'esempio degli animali cambieranno posizioni, si mescoleranno, si intrecceranno, si accoppieranno incestuosamente, adulterinamente e sodomisticamente. Tale sarà l'ordine quotidiano di procedura. Qualunque uomo trovato in flagrante delitto con una donna verrà punito con la perdita di un altro. I più piccoli atti religiosi da parte di qualunque soggetto verranno puniti con la morte.